Musica Troppi turni coperti, in arrivo centinaia di cartelle sattoriali ai volontari del 118 in prima linea durante l'emergenza Covid, loro non ci stanno, paghiamo le scelte della politica. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, verso l'investitura, candidato presidente del centrodestra, intanto Tramontano chiede le dimissioni di Gravina. I Serni a procedura di decadenza contro tedeschi per tre assenze in consiglio comunale, caso risolto aveva l'influenza ma le polemiche non si placano. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, magistrato molisano della Corte dei Conti, alla guida della nuova struttura di missione del PNRR a Palazzo Chigi. Per festeggiare la vittoria nel campionato di Serie A, la creazione di un mastro presepaio napoletano da anni, distanza in Molise. Salve, ben trovati all'appuntamento con l'informazione di TV Molise. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, magistrato molisano della Corte dei Conti, sarà alla guida della nuova struttura di missione del PNRR a Palazzo Chigi. A renderlo noto è il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, L'Affaele Fitto, che parla di una scelta di responsabilità, rimarcando come in quelle risorse ci sia il futuro dell'Italia. Volontari del 118 che, nella fase più acuta dell'emergenza Covid, erano in prima linea al centro di un'indagine per aver coperto troppi turni durante la pandemia. In arrivo centinaia di cartelle esattoriali, secondo l'ispettorato del lavoro, non potevano essere considerati dei semplici volontari, ma loro si difendono senza di noi. Il servizio di emergenza si sarebbe fermato, dicono. E poi paghiamo le scelte della politica. Antonio Leone. Primavera 2020, prima grande ondata di Covid. I vaccini ancora non c'erano, i decessi erano all'ordine del giorno. Tutti in casa per evitare il contagio. Per strada solo loro, i volontari del 118. Il telefono del centralino squilla di continuo. Un altro codice rosso. C'è un uomo che non riesce a respirare. Nel più breve tempo possibile bisogna indossare tuta, guanti, mascherine e salire sull'ambulanza. Una corsa contro il tempo verso il reparto di malattie infettive. Poi, a turno finito, consapevoli di aver rischiato la vita, si torna in un appartamento vuoto perché per mesi era meglio non aver nessun contatto con gli affetti più cari. Mogli, figli, genitori visti solo attraverso la telecamera di un telefonino. Mentre sui giornali e in tv venivano chiamati angeli o eroi per l'ispettorato del lavoro di Campobasso, altro non erano che dei lavoratori irregolari e per questo dovranno essere sanzionati. Troppe quelle ore per essere dei semplici volontari. Con la riforma del terzo settore, le associazioni avrebbero dovuti assumerli. Ma le no profit, che per conto della regione gestiscono le postazioni del 118, hanno da sempre lamentato. Sono pochi fondi per pensare di stabilizzarli. Così, gli angeli del Covid continuano a percepire un rimborso spesa di circa 4 euro all'ora. Introiti che, secondo l'ispettorato del lavoro, dovevano essere dichiarati al fisco come attività lavorativa e non come attività di volontariato. Il fascicolo è poi passato alla Guardia di Finanza, che ha già ascoltato alcuni volontari di associazioni con sede legale a Esernia. Nei prossimi giorni anche tutti gli altri potrebbero essere convocati dalle fiamme gialle. Intanto a breve, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe recapitare centinaia di cartelle sattoriali. Si tratta di migliaia di euro che dovranno sborsare i volontari del 118, a cui viene contestato di aver coperto troppi turni nel periodo 2017-2020. Loro però sono pronti a difendersi. Siamo in pochi. Se qualcuno si fosse tirato indietro, il servizio di emergenza urgenza non sarebbe stato garantito. Ma in Molise anche salvare la vita delle persone a un prezzo, quello salato, che ora riscano di pagare gli angeli del Covid. Il sindaco di Termini, Francesco Roberti, verso l'investitura, candidato presidente del centro-destra. L'annuncio della sua candidatura attualmente è sulla scrivania della Premier Meloni ed è possibile che avvenga già nelle prossime ore o al massimo entro venerdì alla Convention Nazionale di Forza Italia, partito a cui tocca la designazione del candidato presidente della regione. Nelle ultime ore comunque si stanno rincorrendo voci frenetiche su altri potenziali candidati, ma il nome di Roberti è attualmente considerato il più forte e non dovrebbero esserci sorprese. Filomena Calenda lascia l'Udc per aderire al gruppo misto. Colpo di scena in Consiglio Comunale, scelta dettata, detto dall'assenza di progettualità. Vediamo il servizio di Carla Marino. C'è l'assenza di programmaticità alla base della decisione di Filomena Calenda di abbandonare il partito con cui era stata eletta, ovvero l'Udc, per scegliere di confluire nel gruppo misto. L'annuncio è stato fatto nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Isernia. È un passaggio dovuto perché in realtà io con questo partito ho condiviso parte del mio percorso, mi sono candidata anche alle politiche, ma non ho mai visto una progettualità e soprattutto è mancata proprio la condivisione di un progetto politico. Quindi si è reso necessario al fine davvero di poter costruire un valido progetto politico che possa iniziare a guidarmi anche per il proseguo della legislatura in Consiglio Comunale. Una scelta che non significa però, ha sottolineato la consigliera, rinnegare la propria appartenenza politica. Io sono una donna che è sempre stata al centro, nel centro-destra, quindi ovviamente non potrei andare in un'altra direzione. Sto facendo delle valutazioni importanti perché io credo e penso che oramai non si possa più scherzare perché abbiamo davvero diversi problemi che attanagliano sia il Comune di Isernia sia la Regione Molise, quindi sto facendo delle attente valutazioni in virtù anche del fatto che una donna di centro-destra non può sicuramente rimanere alla finestra a guardare ciò che accade. Quindi questo passaggio si è reso necessario proprio in virtù delle prossime regionali. E in merito ai prossimi appuntamenti elettorali, Calenda si dice pronta a scendere in campo. Il mio motto è esserci, ci sarò. Stiamo attendendo che si possa sapere chi sia il candidato presidente, perché ovviamente poi in virtù del candidato presidente si faranno le valutazioni. Comunque io credo che sarò candidata, ci sarò e quindi esserci sempre e in maniera sicuramente che possa essere d'aiuto al popolo molisano. Far passare come normale, naturale, imprevisto e sorprendente che Roberto Gravina abbia voluto fare il candidato presidente della Regione Molise per il centro-sinistra nonostante avesse ancora più di un anno di mandato al Comune di Campobasso è un'operazione a dir poco scorretta. Gravina deve dimettersi da sindaco. e il commento del consigliere di opposizione al Comune di Campobasso Alberto Tramontano dopo l'accettazione della candidatura da parte del sindaco del capoluogo e l'annuncio di un'abdicazione in favore della sua vice Paola Felice. Avviata una procedura di decadenza contro il consigliere comunale Cosmo Tedeschi per tre assenze consecutive non giustificate. Caso risolto aveva l'influenza e ha già inviato il certificato medico. Ma intanto le polemiche non si placano. Ha rischiato di rimanere fuori dal consiglio comunale perché è influenzato e quanto accaduto a Cosmo Tedeschi, consigliere di minoranza al Comune di Sernia che si è visto recapitare una lettera in cui gli veniva comunicato che nei suoi confronti era stata avviata una procedura di decadenza. In base all'articolo 35 dello statuto comunale infatti non ci si può assentare per tre sedute consigliari consecutive senza giustificato motivo. In realtà il caso è già rientrato perché Tedeschi ha già provveduto a inviare il certificato medico. Una influenza gli ha impedito di essere presente alle ultime riunioni ma il consigliere non ha gradito il trattamento e ho riservatogli. Ma guardi rimango stupito da questa cosa. Ancora non sapevo nulla. Hanno fatto un consiglio venerdì dopo il 25 aprile e l'altro l'hanno fatto martedì dopo il ponte del primo maggio. Io ho avuto un'influenza, sono stato a casa. Insomma alla fine il problema è stato che ho dovuto portare i certificati quindi il problema è risolto, certificato medico. Ma un'altra cosa difficile da capire è la prima volta che in 50 anni di politica esernia succede una cosa del genere. Non so perché succedono queste cose penso che sia più importante occuparsi dei fondi che devono arrivare a Esernia. Non è arrivato un euro rispetto ai 100 milioni che potevano arrivare sul PNRR. Questa è una cosa gravissima ma per quanto riguarda la mia posizione penso che ci sta da ridere rispetto a questa richiesta. Io sono una persona molto legata alla mia città quindi figuriamoci sono anni che sto al comune quindi assolutamente non penserei mai di tradire i cittadini o di creare difficoltà. Tedeschi inoltre consiglia all'amministrazione di concentrarsi su tematiche ben più serie e di iniziare a lavorare per il bene dei cittadini. Il primo accenno che ho fatto è sul discorso del PNRR. È una cosa gravissima. Tutto il Molise ha preso 27 milioni d'euro quando noi dovevamo a prendere un miliardo d'euro. Il Senato aveva 100 milioni d'euro e ancora non ha intercettato nulla. Quindi le chiacchiere non vanno bene vogliamo le scuole che si devono riaprire però purtroppo secondo me fra tre anni stiamo allo stesso punto di adesso. Questo è il problema tipo la piscina comunale la piscina comunale siamo stanchi di fare osservazioni di fare interrogazioni non si è risolto nulla. E dopo Carlo Alberto Manfredi Selvaggi nominato alla guida della nuova struttura di missione del PNRR un altro Manfredi Selvaggi che porta anche lo stesso nome è stato nominato dallo scorso primo maggio nuovo direttore generale di Arpa Molise nomina arrivata con delibera di giunta regionale del Molise del 7 febbraio 2023. Alberto Manfredi Selvaggi nuovo direttore di Arpa Molise vanta un curriculum di tutto rispetto. Comunali a chiudere la trafila dei comizi elettorali la lista Vivere Venafro Luigi Vicione ha detto noi l'unica alternativa. Vivere Venafro nel pieno della campagna elettorale una sfida ma anche una fatica in vista del traguardo sognato e al contempo temuto delle urne è lo status quo per le quattro liste in lizza Vivere Venafro con Luigi Vicione candidato sindaco l'ultima in ordine di tempo a celebrare il rito del comizio inaugurale. Siamo l'unica alternativa ha detto ai nostri microfoni il capolista poco prima del suo intervento nella sala conferenze della Palazzina Liberty al cospetto dei tanti simpatizzanti intervenuti. Luigi Vicione, Vivere Venafro insomma come sta andando questa campagna elettorale? La campagna elettorale di Vivere Venafro 86-79 sta riscuotendo veramente un notevole riscontro è molto positiva la situazione che girando tra la gente parlando con la gente ma continuando un po' il discorso che avevamo iniziato oltre un anno fa stiamo davvero ricevendo riscontri positivi. È vero che la sua lista è quella dei poteri forti? Assolutamente no ma soprattutto non sappiamo nemmeno chi siano ad oggi questi poteri forti perché ci ritroviamo veramente in un gruppo nuovo senza legami come ho detto prima e soprattutto mettono in giro voci magari siete legati a questo siete legati a quest'altro avete fatto un accordo con X, con Y assolutamente stiamo andando avanti a testa bassa per la nostra strada. Approfitto per rispondere anche a qualche concorrente che ci dà degli improvvisati ci dà di quelli dell'ultima ora siamo persone assolutamente nuove siamo l'unica alternativa siamo persone libere non abbiamo alcun legame e soprattutto non siamo mestieranti della politica 13 candidati ma tutti molto qualificati tutti molto addentrati nei temi locali e soprattutto tutti i professionisti professionali e intensi Insomma questa campagna elettorale lei ha detto sta andando bene, è soddisfatto ma sarà una battaglia all'ultimo voto o giù di lì? Fare delle previsioni è davvero difficile perché è la prima volta che a Venafro abbiamo quattro liste bene o male si sa quale potrebbe essere il totale dei votanti una ripartizione per quattro è un'ipotesi alquanto difficile Con 2500 voti si vince? Credo siano tanti sì, credo qualcosa di meno la prima azione che intraprenderò è quella di rimettere ordine e pulizia a Venafro già il giorno dopo togliendo tutto questo traffico disordinato e lavorando molto sull'educazione civica dobbiamo far ripartire Venafro nel migliore dei modi perché a Venafro ci sono davvero belle persone che possono dare tanto alla città e la nostra parola d'ordine è partecipazione la gente deve partecipare e deve essere riavvicinata alla politica perché negli ultimi anni è stata davvero fatta scappare da quelli che sono i professionisti della politica Un consiglio o un appello che si sente di lanciare ai suoi tre competitor? Ai miei tre competitor l'appello che posso lanciare è quello di accettare la sfida ad armi pari perché le nostre sono armi leali e soprattutto sono le armi della gente noi siamo in mezzo alla gente e riscuotiamo successo E a proposito, questa sera alle ore 21 la seconda puntata dei tre speciali di Live Today curati da Pietro Tonti dedicati alle elezioni comunali a Venafro del 14 e 15 maggio e ai programmi elettorali dei quattro candidati sindaci questa sera le ultime due interviste singole da 30 minuti ognuna nel pieno rispetto della par condicio dettata dal garante per le comunicazioni in tema elettorale con i candidati Anna Ferreri per la lista cambiamenti per Venafro e Enzo Bianchi per la lista oggi Venafro del digitale terrestre sulla web tv al sito tvmolise.it e sulla pagina facebook di TV Molise E a Campobasso si annunciano tempi duri per i furbetti della differenziata e per quanti non raccolgono le deiezioni carine Francesco Adamo Che i furbetti della differenziata e di non raccoglitori di deiezioni carine avessero le ore contate ero ormai nell'aria lo avevamo percepito monitorando con i responsabili del servizio i centri raccolta delle differenziate seguendo l'estensione dei servizi di raccolta nei vari quartieri della città di Campobasso e dando risalto all'iniziativa del Comune dal titolo forte che annunciava un'azione repressiva a livello amministrativo contro coloro che portano a spasso i cani senza le dovute attenzioni ora arrivano ufficialmente gli ispettori ambientali gli addetti chiamati a monitorare il conferimento dei rifiuti e a sanzionare eventuali violazioni in materia ambientale dopo l'approvazione del regolamento per l'istituzione della nuova figura da parte del Consiglio ora i tre ispettori saranno in azione per disincentivare e punire il fenomeno della migrazione dei rifiuti un provvedimento che il Comune di Campobasso ha adottato alla fine di salvaguardare il paesaggio e tutelare l'ambiente naturale dell'intero territorio comunale l'ispettore ambientale sarà una nuova figura che non sostituisce la Polizia Municipale cui spetta l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di legge ma dovrà segnalare al corpo e alle altre forze di Polizia il non rispetto delle norme ambientali e delle ordinanze comunali e sindacali riguardanti direttamente le violazioni nell'ambito dei rifiuti comprese le deiezioni canine nei spazi pubblici che costituiscono pregiudizio al decoro urbano il compito di questi ispettori sarà il monitoraggio del conferimento dei rifiuti ma anche dare informazioni utili agli utenti sulla differenziata l'attività degli ispettori non prevede ritribuzioni ma solo eventuali rimborsi spese documentati i tre ispettori sono stati scelti fra i dipendenti del Comune di Campobasso personale dipendente della SEA e appartenenti ad associazioni di volontariato riconosciute dal Ministero dell'Ambiente il Palazzo della Borsa di Milano ha ghindato oggi con le insegne della Res per l'esordio sul mercato dell'azienda enologica e sernina del gruppo Valerio sulla facciata della Borsa le bandiere aziendali di recupero etico sostenibile una bella soddisfazione per il Molise l'apertura del mercato è stata contrassegnata dal suono della campanella effettuato come da consuetudine dai rappresentanti della Res e per festeggiare la vittoria del campionato di Serie A la creazione di un mastro presepaio napoletano da anni in distanza in Molise Ormai ci siamo tra qualche ora con tutta probabilità il Napoli e Napoli celebreranno il terzo scudetto della storia partenopea un percorso, quella della vittoria del campionato lunghissimo e accidentato l'ultima esplosione di incontenibile gioia dei tifosi azzurri sotto il Vesuvio e disseminati un po' in tutto il mondo risale infatti a 33 anni fa ai tempi dell'immenso Maradona l'ultimo ostacolo alla conquista del tricolore la partita di Udine contro i friulani basterà un pareggio in realtà i festeggiamenti dei tifosi azzurri sono iniziati da tempo ognuno a modo suo c'è chi indossa i colori azzurri e imbraccia una bandiera altri, affidandosi alla tradizionale creatività partenopea celebrano la loro squadra campione in maniera decisamente inusuale tra questi c'è il signor Luigi il mastro presepaio da anni residente in Molise nel suo piccolo laboratorio di Venafro si è inventato un modo per rappresentare è proprio il caso di dire il suo tifo grazie alla sua arte Ebbene che il maestro Luigi fosse napoletano e napolista dal punto di vista del tifo lo si era capito da tempo stamattina abbiamo deciso di tornare a trovarlo perché in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli tanto attesa lui ha preparato qualcosa di davvero speciale ho creato la classica a macchinetta la moca la moca napoletà che dentro alla moca è riportata sempre un 700 in presepe e tecnicamente è il sumerire del Napoli perché parliamo ho collegato sopra il terzo scudetto di Napoli il pallone di Tera Cotta a Schalp il super santos a Visparello proprio la vita quotidiana che troviamo a Napoli sono diciamo emozionatissima sono contento tantissimo insomma lei non potrà essere fisicamente a Napoli però con questa creazione in qualche modo ci sarà lo stesso sì 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 anche se stiamo diciamo così lontani così vicini ma con la creazione della moca del 700 mi sento lì mi sento lì a Napoli precisamente a Spaccarabili a Santa Lucina e nonostante un po' di scaramanzia insieme al maestro Luigi anche noi siamo pronti a festeggiare Michele Labella ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Santa Maria del Molise ignoti i motivi Labella non li ha resi noti avrà comunque 20 giorni di tempo per tornare sui suoi passi e si presume che il consiglio comunale lo inviterà a farlo anche perché il bilancio è stato appena approvato e l'edificio scolastico della scuola salvo d'acquisto di Campobasso dichiarato inagibile è stato messo in vendita diverse volte con aste andate deserte situazione di disagio per gli abitanti del quartiere che lamentano la presenza di topi e spazzatura la situazione scuola a Campobasso è un argomento delicato sono tanti i plessi che negli ultimi 15 anni sono stati chiusi di questi alcuni dovrebbero essere abbattuti e ricostruiti in breve si fa per dire come la Montini e la scuola Francesco Iovini altre invece sono andate nel dimenticatoio fra queste senza dubbio la scuola salvo d'acquisto in via Kennedy nella parte alta del quartiere Vazzieri è stato uno dei primi plessi ad essere chiuso dall'allora amministrazione Gino Di Bartolomeo troppi problemi strutturali irrisolvibili anche da lavori di messa in sicurezza l'edificio è stato messo in vendita diverse volte con aste andate deserte ad inizio 2022 si parlava di una possibile demolizione del plesso per fare spazio ad un polo di infanzia grazie ad importanti fondi provenienti dallo Stato ma poi il nulla di fatto e a novembre sempre del 2022 la scuola è stata messa nuovamente all'asta l'edificio verse in condizioni di degrado ed il lungo abbandono non ha fatto altro che creare situazioni di disagio per gli abitanti del quartiere che lamentano la presenza di topi e di spazzatura una situazione che difficilmente sarà risolvibile nel breve tempo l'ex scuola salvo d'acquisto non è la sola ad avere un destino incerto sono altri plessi che urlano giustizia come quello di Contrada Mascione che più volte abbiamo trattato nei nostri servizi in quel caso la scuola è stata sia abbattuta ma la ricostruzione ferma da anni a breve partiranno i lavori per la scuola Ponte di Selvapiana che ospiterà gli alunni della Jovine che sarà abbattuta e ricostruita sulla questione seguiranno aggiornamenti la direzione regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino comunicano che come ogni prima domenica del mese il 7 maggio sarà possibile accedere in modo gratuito in ogni luogo della cultura statale in Molise con l'iniziativa Domeniche al Museo La vittoria ottenuta dalla New Fortitude Isernia contro Mosciano nell'ultimo turno ha consentito ai Bianco-Blu di chiudere al terzo posto con 40 punti pari merito con il nuovo basket Aquilano ma avanti per scontri diretti il vantaggio acquisito in questa fase permetterà quindi di giocarsi il turno playoff contro gli Aquilani con il fattore campo a favore l'appuntamento importantissimo è fissato per domenica 7 maggio al Palafraraccio seguito poi da mercoledì 10 al Palangeli dell'Aquila se necessario i fortitudini affronteranno un'ulteriore partita in casa il 17 maggio e in occasione della manifestazione Bici in Città in programma per domenica 7 maggio l'amministrazione comunale di Campobasso grazie alla collaborazione della SEAC promuove una giornata di trasporto pubblico gratuito su mezzi pubblici cittadini sarà quindi possibile per l'intera giornata salire a bordo di tutti i mezzi della SEAC per spostarsi sull'intera rete cittadina senza la necessità di obiterare il biglietto e questa era l'ultima notizia di oggi adesso vediamo il meteo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino Previsioni per oggi 4 maggio per la giornata di oggi condizioni meteorologiche e netto miglioramento cieli poco nuvolosi su tutta la regione con schiarita nelle ore serali venti dai quadranti nord orientali mare mosso con moto ondoso in diminuzione temperature Campobasso minima 10 massima 16 Isernia minima 10 massima 21 Termoli minima 14 massima 18 Venafro minima 10 massima 23 Previsioni per domani 5 maggio per la giornata di domani cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nell'entroterra della regione venti variabili nei quadranti nord orientali e quadranti nord occidentali mare calmo temperature in aumento Campobasso minima 10 massima 18 Isernia minima 10 massima 23 Termoli minima 13 massima 19 Venafro minima 8 massima 25 Si conclude qui anche questa edizione del nostro Tg grazie per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento col Tg delle 19 e 30 Grazie a tutti Grazie a tutti The reto kitabili Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti